24 marzo 2016, scena prima e... Abbiamo grandissime novità, subito dall'apertura tutti gli spettacoli rinnovati e all'interno del teatro due splendidi spettacoli, il cinema è una grande illusione l'illusione è il titolo che raccoglie questi due spettacoli unici nel loro genere nei parchi di divertimento, il mentalist e l'illusionismo portato in scena con il coinvolgimento del pubblico Non c'è nessun parco tematico al mondo che ospiti uno spettacolo di mentalismo quindi per me è una grande emozione essere in questa meravigliosa atmosfera legata al cinema e lo spettacolo si chiama Spettacolosamente e unisce il mentalismo al cinema Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!